Una buona giornata e ben ritrovati su Agronotizie. Cari amici, un saluto a Giuseppe De Vittis. Vediamo cosa accadrà in questi primi 15 giorni di dicembre. È iniziato il primo mese invernale, natalizio, con una fase piovosa. Fase piovosa che a tratti le piogge intenderanno ad interessare un po' tutte le regioni. Guardate poi cosa ci sarà. Tra l'altro un calo termico soprattutto al centro nord, il 3 dicembre sarà il giorno più freddo. Poi però le temperature dal 4, 5 all'8 torneranno ad aumentare. Sempre e comunque con delle piogge a tratti che dalle regioni settentrionali tenderanno poi a coinvolgere anche il centro e il sud. Torneranno a calare però le temperature dall'8, 9 in poi, sino al 17 dicembre, giù con le temperature soprattutto al centro nord, ma poi seguire anche sulle regioni adriatiche. Tanta variabilità, ma torneranno anche delle piogge che tenderanno ad interessare soprattutto le regioni centro-meridionali. Per il momento è tutto. Io concludo così, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.